Ci sono i resti di un pasto frugale appena consumato, le stoviglie, un bracere per il fuoco e i panni stesi ad asciugare al sole. Sfrazzi di una quotidianità domestica nascosti all'ombra del cavalcavia che conduce verso la stazione dei treni, il degrado continua ad impadronirsi di quest'ampia zona periferica lontano dai riflettori e per questo prediletta per costruire baracche e ricoveri di fortuna da chi per scelta o per necessità ha deciso di vivere in condizioni tanto disumane. Un luogo dimenticato tra questo terminal peribusme è entrato in funzione lo scalo ferroviario ridotto ad una cattedrale nel deserto che torna ciclicamente alla ribalta magari per qualche fatto di cronaca eclatante come il caso del presunto stupro e danni di una tredicenne dello scorso mese di settembre e che poi ritorna nell'ombra lasciando campo libero a sbandati ed emarginati e a qualche drogato come testimonia la presenza di numerose siringhe. Questa volta a segnalare l'accampamento di fortuna è stato il consigliere comunale di Palazzo dei Bruzzi Giovanni Cipparrone a sua volta allertato da alcuni cittadini dei quartieri limitrofi. È una sconvita per tutta la mia città per noi che amministriamo non bisogna calcolare cosenza solo su Corso Mazzini ci sono tante aree in periferia che purtroppo vivono queste condizioni. Sul posto sono giunti gli uomini del nucleo de covo urbano della polizia municipale agli ordini dell'ispettore Luca Tavernise. Dopo aver ispressionato il ricovero gli agenti che hanno disposto la bonifica. L'area è destinata ad ospitare proprio il nuovo comando dei vigili urbani e l'ospedale sempre che si risolva la diatriba tra il comune e la regione sulla collocazione del presidio sanitario. Ma ci vorranno anni affinché tali progetti possano concretizzarsi. Salvatore Bruno per la Cinews24